Si sente quella bella aria di relax, tranquillità, vivibilità, un paese più vivibile. Gli operatori hanno avuto grosse difficoltà. I turisti sono stati informati? Sì, certo, grazie a Schipas Livigno, all'ATC e all'autoservizio Silvestri che attraverso i loro canali hanno comunicato giustamente ai nostri ospiti quello che era sia lo scopo e l'obiettivo della giornata ma anche a livello più concreto come si andava a espletare e comunque davvero nessun riscontro negativo anzi un test che a breve ci troveremo anche a un tavolo per definire meglio come è andata la giornata una cosa molto interessante, penso che sia anche il messaggio che vogliamo far capire a tutti è che a Livigno in stagione, quindi quando il trasporto urbano è potenziato passa un pulmono ogni 10 minuti, proprio per la volontà dell'amministrazione pubblica di dare quindi un servizio più adeguato a quello che era anche la domanda che necessitava quindi il paese fino alla fine della stagione invernale, quindi fino al 30 aprile avremo questo potenziamento qua lo andremo a ridimensionare durante la morta stagione per poi restabilirlo durante l'estate Visto che c'è questa giornata e hanno messo a disposizione gli autobus, vado in autobus o a piedi Normalmente prendiamo l'autobus per girare a Livigno Siete turisti giusto? Sì sì E' per scelta perché lasciamo la macchina dentro il garage e poi andiamo a piedi e con l'autobus perché è comodissimo anche per l'ambiente, visto che poi sono ecologa quindi anche quella è una scelta Tra i mezzi di trasporto non inquinanti anche la carrozza con i cavalli perché un po' di romanticismo non guasta mai Questo servizio è gratuito per la giornata di oggi? Sì, certo Per tutti, sia per i turisti che per i cittadini? Sì, è un servizio che ha voluto organizzare il comune Prendiamo i turisti dalla Rotonda, dalla Mottolino, li portiamo in centro Siamo partiti stamattina alle 10 e gireremo fino al pomeriggio alle 5 Tutti italiani o anche qualche straniero? No, italiani, stranieri, un po' tutti Li portavamo a Mottolino sciare oppure negli impianti piccoli Addirittura? Quindi in carrozza con gli sci? In carrozza con gli sci, sì A coadiuvare la polizia locale nell'attività informativa sul Traffic Free Day la protezione civile Noi ci stiamo adoperando appunto, affiancando la polizia locale Per dare soprattutto informazioni su quello che è il Traffic Free Per quanto mi riguarda da come stiamo lavorando La gente è molto sensibile Sta comunque reagendo abbastanza bene a questa iniziativa Grazie